Penso che i nemici siano i politici corrotti, penso che i nemici siano i governi locali e nazionali infiltrati dalla P2 e dalla mafia. I nemici non sono gli immigrati, sono i mercanti di droga, i nemici sono i mercanti di armi, i mafiosi. È un grandissimo problema per tutti, per tutti, non si può andare avanti in questo modo, perché tutto quello che ingassiamo sono per loro, non ci rimane più niente a noi. Perché non prendono quelli milionari che hanno dei ragazzi e non fanno nessuna denuncia di arreddita? Perché ne devono mettere i tasse a noi sopra i pensionati e non ne aumentano le pensioni? Per quello motivo? Prendiamo le botte di Mambalcone, le botte di Bossella, tutti stanno sparando come i cani e adesso non risolvono la situazione. Chiuso. Per quanto riguarda le tasse, le devono far pagare, primo a Cracchese, secondo a Angiotte, quelli che hanno combinato tutta la rivoluzione in Italia. Poi ci sono i vari Berlusconi, Agnelli, eccetera, eccetera, che potrebbero pagare tutte le tasse. Perché le devono far pagare i poveri cittadini? Un po' pensionato, un po' pensionato. Cioè, che si fanno queste tasse? Con quale criterio le fanno? Levano tutte queste medicinali, tutte queste cose da quelle che non lavorano? Ma insomma, io non lo so come si può fare un governo di questa maniera. disoccupato e deve pagare il ticket. Ma insomma, cosa si può fare? A pagare siamo sempre noi. A che cosa consiste? Di pagare tutte queste tasse, c'è stata la svalutazione. E il buco di miliardi che deve coprire l'Italia? Ma neanche come vanno a fare. Non è che potremmo risarcire tutti i tangenti che si hanno pregato o no? Si hanno pregato tutti questi soldi. Perché non vengono sequestrati? tutti i soldi. E allora, e poi, perché non vanno, per esempio, nei parrocchieri a prendere questi soldi? Perché ognuno che si va a fare un taglio di capelli paga dei 40-60 mila lire. Va bene? Chi le paga queste tasse? Quando una signora va a farsi una permanente o farsi i capelli, paga 40-50 mila lire, ci fanno la ricevuta di 10-15 mila lire. Che le va a controllare queste qua? Perché non ci vengono? Secondo me, tutta questa speculazione che c'è dello Stato, delle tasse, della mafia e tutti questi fenomeni negativi che ci sono, tutto dipende dallo Stato. Perché se lo Stato invece di mangiare per miliardi, li destra ai poveri, a quelli che prendono una casa, investirebbero dei soldi per fare molte cose, allora tutto ciò si potrebbe realizzare. E tasse non ce ne sarebbero più. Qui invece siamo solo a carica di tasse e non sappiamo neanche come cambiamo. Come cambiamo. In questo passo andiamo a finire male, per noi che non abbiamo tante possibilità. Per quelli che stanno bene, stanno bene anche tutt'ora e dopo magari, perché ci sono le possibilità. Che cosa può fare questo povero uomo? Che cosa può fare? Poi tra tante sete tante tasse siamo tutti scontenti, chi c'è dubbio? Nessuna persona è contenta quando vede le cose maggiorate. E lo farei a tasse, ripagliare la sanità e ripagliare l'auto, giustamente come diceva che lo dà. No, come diceva D'Antonio. D'Antonio, come si chiama? D'Antonio. Al sera mi pare che ci fai la trasmissione, la televisione. E che lo dà questo? L'uomo ripagliare la tasse della salute, l'uomo ripagliare la tasse della sanitaria. A niente, questo è un metro che è via di secolo. Io non sono un economista, naturalmente, ma è una cosa molto necessaria. Bisognerebbe che tutte le persone si rendessero conto della necessità dei sacrifici. È finito il tempo dei furbi. Peccato che non ci hanno pensato prima. Dispiace se questa manovra non va in porto, perché noi non dobbiamo pensare allo stato attuale, dobbiamo pensare anche al nostro prossimo futuro. C'è il governo Amato, ma io non ho fiducia, perché lui sta facendo pagare proprio i piccoli risparmiatori. Sta facendo pagare i pensionati soprattutto. C'era grosso l'uscita dell'acqua, l'arri stava un ristretto. C'è che si scagava, tutto questo è stato un ristretto. E direi che è stata sistemata non molto tempo fa la strada e nuovamente siamo punti a capo. Veramente i tecnici non c'erano gli altri. È stata una serie di ruolo comune, che mi sai. Sì, è stata una serie. Però ci volevo il controllo. Di sotto a controllarlo e mettere la caciera. Cosa ne pensa la gente di questa cosa? Cosa ne pensa? Manca se controllo. Manca se controllo. Un ingegnere va quando viene a lavorare, ma per controllare di sotto. E da sopra, più viene da sotto. Manca se controllo, e disciplina. Se pensava bene, invece, dopo poco tempo, i risultati si vedono. Da chi dipende tutto ciò, secondo lei? Il lavoro. Sicuramente le approva il comune. Poi dipende dalle ditte e i materiali che le vengono dati, sicuramente. Secondo lei per quanto tempo ancora deve rimanere così via il ciumo? A questo non so rispondere io. Dipende anche dal comune. Che dobbiamo pensare? Stai capito in dentro? Se si doveva fare, si doveva fare tutto. Il responsabile, secondo me, proprio il responsabile è l'ingegnere. Un ingegnere deve capire queste cose. Dunque gli ingegneri dovevano essere all'altezza di poter vedere il danno che c'era prima. Se questi ingegneri non sono all'altezza, che se ne vanno a casa? Era qualcosa che a me faceva molto piacere perché avendo lavorato, iniziato la mia carriera di archeologo qui e avendola praticamente completata alla direzione della scuola d'Atene, per me veramente è stato un ponte fra l'Italia e la Grecia. Ma questi rapporti sono antichissimi e addirittura risalgono il secondo millennio e non si sono mai interrotti fra l'Italia e di Grecia. Professore, qual è il tema dell'incontro di oggi? Ma è la presentazione del volume che ha fatto seguito a quel convegno che fu voluto dall'allora sindaco amico Chesseri e che poi è stato portato avanti proprio nella funzione dall'altro amico dottore Arezzo e avvocato Arezzo, sindaco attuale di Ragusa. E quindi è stato praticamente il frutto scritto scientifico di quel convegno. Gli atti del convegno che si è tenuto due anni fa in onore del professor di vita e io parlerò anche dei suoi scritti, riediti, ma un bellissimo volume di insieme che sono ben 500 pagine, ma che possono interessare a tutti, a chi ama il passato, a chi è nelle scuole, perché sono chiari, scritti in modo molto evidente, ma non mai ridondante e senza lungaggini. Quindi caldeggio molto che questo volume degli scritti di di vita, che hanno il titolo da Siracusa a Mozia, siano resi noti a Ragusa, nelle scuole, nelle librerie e la gente di Ragusa che ama il passato, che ama l'antichità classica, li abbia in mano, li conosca. Questo mi sembra il messaggio che vorrei che venisse trasmesso da questa giornata odierna. Nel pomeriggio poi invece ci sarà la presentazione della grande scultura del cavaliere, del guerriero di Castiglione e allora sarà un momento diverso al museo. Si pubblicava il famoso ormai volume da Siracusa a Mozia. La cultura ha organizzato la presentazione degli atti. È uno dei rari sindaci che si è davvero occupato di Chiaramonte in una maniera seria della cultura. Seconda cosa perché è la mia città natale, ho ancora interessi, amici e questo è il motivo per il quale sono qui. Ma in questa occasione vorrei ricordare quello che il sindaco ha fatto per Chiaramonte. Quello che raramente è stato in tutti questi anni, io mi sono sempre tenuto in contatto con Chiaramonte, anche perché dal 1955 al 60 sono stato proprio alla soprendenza delle antichità di questa zona e qualcosa ho fatto anche per Ragusa. Ma volevo dare questa testimonianza perché Chiaramonte ha preso veramente, come lei dice, spessore culturale attraverso questo sindaco ed è questa la parte che mi riguarda maggiormente.